L'oliva Itrana è un'oliva che si produce nel sud pontino, quindi siamo nel Lazio, Idri precisamente, e abbiamo un periodo di raccolta lunghissimo che va da novembre fino ad aprile. A novembre raccogliamo un'oliva bianca, ossia un'oliva completamente verde, che è molto tipica dal gusto bella soda croccante per aperitivi. Una parte delle olive restano sulla pianta, arrivano a piena maturazione, fino al mese di marzo, e ne nasce l'oliva Gaeta DOP. Praticamente abbiamo la stessa pianta con due prodotti sostanzialmente diversi, due corposità completamente diverse, quindi la bianca, come ho detto, è un'oliva bella soda croccante, la nera, la Gaeta DOP, invece è un'oliva più morbida, tipica per la cucina. L'itrana ha una caratteristica unica, quando si mangia c'è la netta separazione tra il nocciolo e la polpa, quindi il nocciolo esce completamente pulito, si denocciola facilmente. Lavoriamo una salamoia al naturale, significa che nelle nostre confezioni trovate solo acqua, olive e sale, non ci sono conservanti, quindi come vuole l'antica tradizione itrana. Siamo una cooperativa di 300 olivicoltori e la nostra produzione, essendo l'oliva itrana, un'oliva molto particolare, ci consente di produrre sia un'oliva da mensa che un olio extravergine, che viene prodotto nel mese di novembre e dicembre in concomitanza con la raccolta dell'oliva bianca. Grazie.